Luigi è un amico che è stato importante nella nostra storia, quindi Luigi un saluto ai nostri colleghi perché eri nel video, tu fai parte di questa famiglia oramai e gli uomini e le donne di Fiaip hanno contato su di te allora e anche domani. Io sono onorato di ricevere sempre il vostro invito perché si tratta di visitare un luogo nei vostri convegni dove si coglie l'eccellenza ed è un fatto positivo. Purtroppo il difetto italiano è che quando l'eccellenza mette le radici c'è un pochettino di assalto di interessi, oggi voi soffrite di troppi imitatori, il problema è questo e non sono alcune banche, anche in alcuni settori del notariato c'è la stessa tendenza, nel senso che si discute dicendo lo potremmo fare anche noi. Qualcuno lo sussurra, ma non lo faranno. Però voglio dire, nel momento in cui voi conquistate un ruolo paraistituzionale o istituzionale la salta, la diligenza comincia e attenzione il discorso che è stato fatto sulla professionalità è estremamente importante perché poi la professionalità è una parola che bisogna riempire di contenuti, il principale contenuto della professionalità è la terzietà, è il principale, è il valore aggiunto, è la vera conquista che si avuta nel momento in cui si mette in discussione la terzietà, si incide sulla professionalità e c'è il livellamento in basso. Questo è il panorama che si potrebbe delineare e questa è la trincea di battaglia che la FIAEP riuscirà a portare avanti vincendola ancora una volta. Grazie di cuore.